E' arrivato il biondo! Vabbè, sto ghiacciando! Perché? Rimane che fa freddo! O vuoi aver ammazzo il freddo? Come fare? 10 minuti! 10 minuti qua! E ora... Non è vero! Gatti, hai una stampa, un litro e poi ci va dentro! Ma che ore sono? 10 minuti qua! Siamo già... Ciocco tradito! Come? Ciocchi traditi! Ma tradito! Ma tradito eh!